Il piano mensile è un documento che per ogni materia codividono i professori con i ragazzi di tutte le classi della scuola Montessori di Leuwarden in Olanda, dove ho svolto il mio job shadowing. È una pratica che mi sembra molto utile per responsabilizzare i ragazzi nel proprio apprendimento perché sanno già durante un mese tutti gli esercizi, tutte le lezioni, tutto quello che andrà fatto, che devono svolgere anche a casa. Mi piacerebbe molto proporlo quest'anno al Consiglio di classe della scuola mia.